Ragazzi, buongiorno a tutti, siamo qui con Davide De Martis, fotografo, ritrattista di persone e auto, adesso capiremo anche il perché di questa dicitura, sardo, ma vive ormai a Torino da infinito tempo, credo, e ci facciamo una bella chiacchierata perché SL3 è uscita da un po', Davide è certified by Laika, ma abbiamo tante cose di cui parlare. Per i vecchi ascoltatori di Messa Fuoco all'origine, in realtà Davide era già passato in una live su Twitch molti, molti anni fa, quando eravamo ancora nel vecchio studio e tutto il resto, e quindi cominciamo questa nuova intervista, mettetevi comodi, sarà lunga, sarà interessante, ci saranno un sacco di cose da dire, con Davide De Martis. Oh, buongiorno. Allora, grazie. Benvenuto. Finalmente sono qua con voi. Ce l'abbiamo fatta. Sì, veramente dopo anni, mi ricordo perfettamente che quando abbiamo fatto quell'episodio, comunque era Messa Fuoco, no? Eh sì. Lo chiamavi già Messa Fuoco, forse. Sì, sì, il podcast era nato così. Però tu non c'erai mai. No, io non c'ero, io ero ancora per fatti miei, ruotavo attorno, ma non era ancora così. Sì, secondo me eravamo ancora nel periodo Covid, giusto. E devo dire che in quel periodo mi ero abbastanza abituato a questo tipo di cose, no? Cioè, avere un filo diretto con chi, tra virgolette, all'epoca mi seguiva e magari mi seguiva ancora anche adesso, però avevo forse un rapporto anche diverso con i social media, avevo più voglia di comunicare, essendo comunque chiuso. Certo, quello, quello. E quindi mi ricordo che facevo questa cosa delle dirette, c'era la letterina del cuore, facevo sta roba che mi facevo chiedere le domande, e poi facevo una live dove rispondevo alle domande. E in effetti era una cosa che funzionava, io mi divertivo molto. Anche perché durante quelle live, magari di un'ora, mi facevano delle domande molto interessanti e avevo un sacco di gente che seguiva, quindi ero tutto contento. E per un attimo ho detto, ah, magari anche io faccio quello che facciamo. Ovviamente queste cose che mi vengono in mente durano tipo un giorno, poi quando capisco la mole di lavoro, quindi fai, non è per me, chapeau, complimenti a voi due perché veramente mi rendo conto sempre di più di quanta pazienza e quanto lavoro c'è dietro quello che fate, quindi mi fa piacere dirlo anche a chi segue un podcast, il vostro podcast perché tanti non hanno un'idea. E io all'inizio, no, sono stato uno dei primi a mai criticato, ma ho detto, vabbè, con semplicità, mi sa che posso farlo anche io, no? E mi ricordo che ho avuto per, boh, non so, mesi una wishlist su Amazon con il microfono, mixer, regia, perché ho detto, ah sì, ma sai, lo posso fare anche io. E poi comprare l'attrezzatura è sempre facile, poi tutto il resto e il resto. Però io ti do un consiglio, tienitelo comunque lì il progetto, magari per un giorno, perché trovare un fotografo che fa una roba del genere è qualcosa di molto raro. Ok. Io te la lascio lì, poi dopo, non lo so. Cioè, forse intervistare altri fotografi potrebbe essere molto interessante, ma non penso di essere la persona giusta. no, cioè, secondo me è molto meglio essere qua, vostro ospite, ma non so, io intervistare un altro, forse sì, ma non colleghi fotografi più che altro. Non è quello. No? Qualcuno che, sì, magari l'artivisivo potrebbe essere molto interessante, no? E dire, intervistare qualcuno che fa motion grafica, tra gli amici ce ne sono tanti. La nostra idea è quella di cercare di portare quella roba lì, un po' uscire dalla fotografia come macro concetto e provare ad entrare nel mondo delle immagini. Esatto. Io ho una domanda per partire, perché tu effettivamente arrivi da un paesino minuscolo della Sardegna. Già la Sardegna non ha grandi paesoni, però non arrivi da Cagliari, cioè sono nato nel nulla cosmico. E tra l'altro abbiamo memoria che alcuni dei nostri utenti storici che ci seguono arrivano dal tuo stesso paesino. Bravissimo. Non so se ti ricordi quella scena stupenda che c'è stata in là. Come no? Questa la sapevi tu? Io sì, me la ricordo. Sì, sì, sì. Il sindaco. Il sindaco. Il paese è Macomerso, non sbaglio. Sì, bravo. Avete studiato. Sì, allora, la cosa... Allora, sai, molti sardi evitano di dire veramente vengo da questo paese, perché poi la domanda che segue... Allora, normalmente il sardo si presenta, ah, ciao, sei sardo? Meme di Spider-Man. Sei sardo? Sì, 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 si sente, ok. E poi l'altro è di dove sei? Allora, lì è... Cazzo. No? Tipo Terminator con le domande. Ma vai, cosa gli dico? Se gli dico che sono di Macomers, Macomè dice... Ah, no... E poi fanno la faccia un po' così e fa... No, questo non lo conosco. Quindi molto spesso, tanti sardi dicono... Evitano anche Nuoro, se sono di provincia di Nuoro e dicono... Eh, sono di Cagliari. Ah, Cagliari. Però poi si dici Cagliari e ti dicono... Eh, Asibiri. E ti dicono cose... Cagliaritano. E tu dici... No, no, non sono Cagliaritano, cioè c'è questa differenza. Però io sono sempre stato molto sincero e sono molto legato alle mie origini, quindi dico sempre sono di Macomè, no? Ed è così. Quando te ne sei andato tu? Eh, allora... Sono andato per studiare, quindi diciamo che non sono più tornato in Sardegna nel 2007. Ok. Diciamo che mi sono stabilito a Torino dal 2007, però dal 2000 ho iniziato a viaggiare, facendo un altro lavoro, lavoravo nel mondo della logistica, ho girato un po' e quindi sono andato via forse settembre, il 2000 e poi sono... per 4-5 anni è sempre stato un vai e vieni, un vai e vieni, ecco. Wow. Quindi diciamo che vivo fuori casa da quando ho 20-21 anni, ecco, più o meno. Ma perché, cioè, la Sardegna è proprio inospitale verso sia... beh, il lavoro che facevi prima non c'entrava molto con la fotografia, però effettivamente... cioè tu vedi un futuro da fotografo in Sardegna. Però dico, per il tipo di fotografo che sei adesso, se uno dovesse svegliarsi adesso a 20 anni e dire, merda, voglio fare il fotografo... In Sardegna, dici? Allora, io per esempio una delle cose che avrei sempre voluto fare è questa cosa di costruire un ponte tra... qua, il continente e la Sardegna. Questo ponte è fatto di persone sarde che hanno trovato la loro via in questa professione e che possono tendere una mano a un me di 17-18 anni che dice chissà se c'è un futuro per me nella fotografia o nella regia o nella direzione della fotografia o, non lo so, nella grafica. Sull'isola? Sì, sull'isola e comunque di lì non siete soli, c'è qualcuno che può aiutarvi. Perché la Sardegna, tanti la conoscono per la costa, vengono in vacanza, la spiaggia. Però la Sardegna è fatta di tanti piccoli paesi, tante piccole realtà e molto spesso noi ci sentiamo anche lontani dalla città più grande, no? Per i sardi le distanze sono molto particolari, nel senso che io sono di Macomere andare al mare a Bosa perché sono 20 minuti di auto, però quei 20 piccoli 20 minuti di auto per noi sono comunque un piccolo viaggio oppure andare a Cagliari sono due ore, magari no, forse meno. Comunque le distanze in Sardegna sono molto amplificate, se penso che adesso a Torino magari vi faccio anche 20 minuti a piedi in tranquillità per andare, non so, in palestra o... All'epoca, Vivenda Macomere, magari a 17-18 anni, pensare di dove andare da casa mia al corso che magari erano 10 minuti a piedi, impensabile se si prendeva la macchina. Questo è per spiegare comunque come noi abbiamo... Cioè il Sardo del Nord è raro che vada al Sud. Poi è chiaro che ci sono sempre le eccezioni, però mi ricordo quando lavoravo tipo in Costa Smeralda quando facevo le stagioni negli hotel e lavoravo nel ricevimento, quando dicevo il fine settimana questo fine settimana torno a casa, torno a Macomere, la reazione era... No, ti metti in viaggio, magari per fare due ore e mezzo di macchina. Ah, ok, ok. Madonna. È un po' così, poi per carità, adesso non voglio generalizzare, ma soprattutto vi parlo anche di più di 20 anni fa, no? Sì, sì, era diverso tutto. Era diverso, sicuramente era diverso tutto, però magari se penso a me, mi capita anche di venire due volte a Milano, andate e ritorno in macchina in una settimana, ed è una cosa che ancora oggi quando magari racconti ai miei... Fantascience. Eh no, magari dicono, mamma mia, che stanchezza, cioè, e li capisco, perché non sono così abituati, come mia nonna che magari al mare c'è stata pochissime volte in tutta la sua vita, e non è una cosa però solo della Sardegna, eh, cioè, sicuramente. Certo. C'è una cosa molto famosa che... questa cosa dei sardi che vivono più dell'entroterra, no? Sì, però secondo me è molto paesino, perché io, se ci penso, per me è uguale, nel senso che quando stavo a San Dammiano, fare San Dammiano Asti, che sono 15 minuti di macchina, era un vado in città. Eh, cioè... Sì, ma come da me Bologna, che era un'ora di macchina, io ce ne metto 45 per venire in studio ogni mattina, andare a Bologna era... stai andando in città a fare il grande viaggio... Boh, a me c'è uno dei ricordi che ho sempre... l'altro giorno sentivo un reel su Instagram di questo comico che raccontava di... spiegava la mindfulness, non so se l'avete visto. C'era un sito che diceva, adesso mi parlate di mindfulness quando vent'anni fa viaggiavamo da soli nell'autobus, per forza c'era... eravamo mindfulness, c'era questa mindfulness di dire, sono da solo, non ho questo strumento che è lo smartphone, o comunque non c'è questa possibilità di essere sempre connessi, quindi eri tu da solo, e guardavi le gocce di condensa a scendere, mentre ti facevi magari un'ora di autobus. Quando io andavo a scuola, c'è stato un periodo che andavo a nuoro a scuola, mi svegliavo tipo alle 5 e mezza, 6, andavo a piedi, alla stazione, a Macomera, prendevo la lettorina che era questo trenino piccolo per andare a scuola a nuoro, e ci mettevo due ore con questo treno che andava tipo a 60 all'ora, e poi facevo un'altra mezz'ora a piedi per arrivare a scuola. Porca torna. Arrivavo quasi sempre dopo le 8 e mezza, perché il viaggio era talmente lungo, e poi tornavo a casa, mettendoci lo stesso... Io tornavo a casa, ma come tipo alle 3 di pomeriggio, prendendo magari i mezzi, e molto spesso facevo autostop per tornare a casa. Cioè, a questo livello. E quindi io tornavo a casa, e tu pensa, alle 3 di pomeriggio dovevo ancora... Avevo ancora la mia giornata, cioè vivere. Magari sai studiare, fare i compiti. Invece a livello... Cioè, tu prima hai detto appunto, hai lavorato nella parte alberghiera, poi come logistica, e poi la fotografia è una roba tutto sommato recente. Più che altro come arrivare a livello professionale. Ma guarda, la storia penso che sia analoga a tantissimi. Nel senso, per me l'epifania è stata quella di trovare una macchina fotografica a casa. Ma avevo 8 anni, 8-9 anni. Ah, ok. Ho trovato una macchina fotografica, e ovviamente mi ha colpito tanto lo strumento, no? Quanto è affascinante, cosa fa, che cos'è. Voglio capirela, voglio imparare ad usarla. E quindi ho iniziato subito a fotografare. Cioè, il mio primo servizio fu una serie di fotografie fatte a mia sorella, che aveva tipo 4-5 anni, con la Canon FTB di mio nonno. Cioè, sono foto ancora esistenti, non ce le ho qui con me, ma le ho utilizzate in qualche articolo del mio blog, forse le avevo anche postate su Instagram. E da lì non ho mai smesso. Cioè, la fotografia è sempre stata una costante, no? Con quelle macchine fotografiche, poi le compatte, tipo l'Inpus Mew, ne ha avute diverse. Quando non c'erano l'Inpus Mew, mi compravo le Kodak Fan. E quindi ho sempre fotografato. Ok. Ma tipo, ho un archivio di fotografie di me, dei miei amici. Ero l'unico che faceva sempre le foto. Quando è arrivato il digitale, con il digitale. Ma è una cosa di famiglia, oppure? Allora, è una cosa di famiglia da parte di mio nonno. Ok. Cioè, quello che faceva foto e video era mio nonno. Perché poi i miei erano vissuto una vita molto... Erano molto occupati perché lavoravano nella ristorazione. Ok. E quindi sicuramente ruba l'anima la ristorazione, no? E' veramente una schiavitù. Quindi complimenti a chi ancora fa questa vita e tiene duro e va avanti. E riesce anche a portare avanti una famiglia. E quindi in realtà quello è stato il mio primo lavoro, no? Sono cresciuto in una cucina. Quindi ho iniziato a lavorare che ero... Anche lì. A dieci anni mi mettevano a fare qualche cosa, tipo pelare le patate, lavare quello. E poi ho fatto tutto, io dalla cucina alla sala, no? Beh, ho fatto il lavapiatti, ho fatto... Tutti i ruoli che ci sono nei ristoranti io li ho fatti. Fino a servizio in sala. Quindi quello è il primo lavoro che ho imparato. E lì la macchina fotografica c'è sempre stata. Ok. E quando poi sono partito per fare il lavoro nella logistica, mi ha seguito anche la macchina fotografica. Però l'ho dimenticata in un taxi. No. In Africa, tipo, non mi ricordo dove ero, se Ghana, Gambia o Sierra Leone. Comunque l'avevo comprata nuova. Merda. Non ricordo nemmeno che macchina fotografica era. Era una reflex. Hai rimosso questo ricordo orribile. Forse sì. C'è un'esperienza veramente allucinante. Mi ricorderò sempre il primo momento che l'aereo è atterrato in Africa, forse da Bruxelles. Quando si sono aperte le porte dell'aereo plano, cioè è arrivata questa, proprio l'aria dell'Africa, questa area calda, umida, quando sono uscito all'aereo, sembrava proprio la color correction di, di come si chiama quel film, quello che raccontano il narcotraffico, al confine tra l'America, no, al confine tra l'America e il Messico, Traffic. Con i nomi, guarda, cioè proprio... Io conosco solo Narcos. Forse, se non mi sbaglio, è Traffic. Praticamente nel film c'erano delle fortissime color correction, quando si parlava di tipo di Messico, era tutto... Arancione classico. Esatto, no? Quando sono uscito all'aereo, sembrava quella roba lì, cioè veramente la terra rossa, era il tramonto, e questa cosa forse mi aveva proprio destabilito questi odori particolari, e mi ricordo che arrivo a prendere questo taxi, e il taxi arriva e non aveva i propri sedili. Top! E il... c'era solo un sedile e il tassista che guidava aveva una sedia con le gambe tagliate, appoggiata. Il taxi non aveva i fari, cioè proprio non ce li aveva, zero. Secondo me questa cosa qua mi ha proprio destabilizzato, nel senso che mi ha un po' rintontito, perché arrivo da Bruxelles, arrivo a questa cosa qua, poi io essendo molto curioso, uno che si perde in tutti questi dettagli, ma sicuramente ho iniziato a viaggiare, a pensare chissà che cosa, e quindi ciao, grazie, e Mindfulness Forever, arrivo a questo hotel, e ho detto ciao, grazie, sì, molto gentile, ho prenduto tutte le cose, la macchina fotografica è lasciata lì. Vabbè, tu vedila come se gli avessi fatto comprare i sedili nuovi della macchina. Ma chissà cosa, la macchina è diventata un tatturo con quel taxi. E sarà stato il 2000 questa cosa. E invece quando c'è stato però, cioè quando è diventato effettivamente il tuo lavoro a tempo pieno? Perché poi... Allora, diciamo che c'è stato questo momento, in realtà io mi sarebbe piaciuto più fare o l'attore comico, o tipo proprio il comico, o il presentatore comico. E' una roba alla Guzzanti o tipo più alla Fiorella? Non l'ho mai capito, però quando avevo 17-18 anni ho scoperto che bisognava fare un'accademia d'arte drammatica, cioè bisognava... Saper recitare. Saper recitare. E soprattutto era un percorso così complicato e difficile, ho detto, mi sa che questa cosa non fa per me. Poi l'addizione, un casino. Vai, figurati. Cioè, no, quindi ho detto, vabbè, lasciamo perdere. E poi c'era la musica, che è sempre stata questa compagna, io suonavo la batteria e avevo questo sogno di dire, no, voglio diventare il batterista di una band trash metal, no? E c'è stata questa cosa qua, avevo un gruppo, abbiamo suonato per un po' di tempo, tutti i miei amici continuano a suonare adesso, hanno la loro proprio sala prove in casa. Io sono l'unico che purtroppo ha detto, no, full commitment sulla fotografia. Però c'è stato un momento dove ho deciso che forse la fotografia era la mia creatività, no? La musica è sempre rimasta, però c'era questo... Per come sono io, la mia personalità, il mio carattere, queste diverse personalità e soprattutto i miei momenti solitari, no? E la musica la fai assieme a altre persone. E io forse avevo bisogno di molto tempo in solitaria per riuscire poi a manifestare le mie idee attraverso un altro strumento, che magari era quella macchina fotografica, è un po' difficile comporre solo con una batteria. Cioè, ti servono altre persone, quindi per me è sempre stato un po' ho voglia di conoscere un sacco di persone, ho voglia di appunto fare il comico. Cioè c'è sempre stato questo, il lato un po' come il pagliaccio che fa ridere la gente, ma in realtà cry, no? Quella cosa, che era un po' la cosa famosa che avevamo detto in quella puntata del darkness, cioè il buio dentro per vedere bene la bella luce fuori, no? E quindi niente, da lì 2004-2005 ho iniziato a pensare, boh... Lì iniziavo a fare dei lavoretti pagato come fotografo in Sardegna, no? Ah, giusto, perché è ancora lì? Sì, e facevo qualche lavoretto magari pagato, qualche evento, qualche ritratto, le foto di agenzie immobiliare, mi ricordo. Però mi sentivo proprio un po' irrispettoso nei confronti di una categoria, no? Mi sentivo che... Perché non eri abbastanza... non ti sentivi bravo nel senso che ti spacciavi come fotografo? Non mi sentivo bravo, non avevo ancora una partita IVA, non lo so, mi sentivo proprio irrispettoso. E quindi ho detto, no, allora, prendiamo le cose seriamente. Cioè avevo provato una prima... qualche anno prima del 2007, non riuscendo perché non avevo forse abbastanza soldi da parte, non ricordo. E poi nel 2007 ho detto, no, vabbè, questo è l'anno, mi trasferisco, avevo un amico che mi ha potuto ospitare all'inizio, e poi ho trovato subito lavoro. Quindi ho iniziato lo IED a Torino e lavoravo, ho iniziato a fare... Quante anni avevi? È 28. Avevo 28 anni. 28 anni. Ho fatto il mio compleanno dei 28 lì, perché era il 2007, e ho iniziato lo IED e poi ho lavorato in un hotel dove facevo il portiere notturno, una roba super creepy. Facevo il portiere notturno in un hotel dietro Porta Nuova, perché il portiere notturno prima di me era morto d'infarto lì dentro. Che cazzo? Cosa non si fa per fare quello che ci piace? Io andavo a lavorare lì, tipo iniziavo, non mi ricordo, sia alle 7 e alle 8 di sera, e in realtà non facevo un turno normale, perché non mi dico per quale motivo, loro mi dicevano fai una pausa di 2-3 ore durante la notte e poi finisci alle 8. Quindi io stavo comunque 12 ore dentro questo hotel, che per me era un po' casa dei fantasmi. E poi andava a studiare? Eh, bravo, sì. E poi uscivo da lì e andava lo IED. Madonna santa! Sì, sì, e l'ho fatto per, boh, fai, non so, ho resistito forse meno di un anno. Ah, ok. No, ma, raga, cioè, io la notte era stare attento a non aprire la porta a chi voleva derubarmi. Spacciatori, prostituti. Tra l'altro il Torino, in quel periodo lì, non era nemmeno quella che è adesso, c'era appena finita le Olimpiadi, si stava riprendendo un po', quindi non era proprio... Ah, hai ragione. Non era ospitale come è ora. Io me la ricordo la Torino del 2006-2007, era veramente un posto grigio e oscuro. Era veramente... Le notti lì erano... Effettivamente erano veramente... Un po' di pepe. Mi ricorderò sempre questo, un aneddoto, non di quelli negativi, vi racconto uno di quelli positivi, che avevo una notte, mi ricordo che era uscito in streaming, in uno di quei siti dove andavi a vederti gli streaming, siamo qua, avevo visto Iron Man, il primo Iron Man in streaming. E tu eri il tizio nella grotta, cioè, prima di fare l'armatura, tu avevi costruito l'armatura per riuscire a difenderti da... Esatto, era un tutorial in realtà. E mi ricordo questa roba qua. Poi la notte studiavo, mi ricordo studiare tipo, studiare la fotografia, queste cose qua, e poi andare a scuola, cioè andare all'università, che poi non era l'università all'epoca, adesso lo è. E poi ho iniziato a lavorare alla FNAC. E ci ho lavorato per... Esiste ancora? No. In Italia no? No, purtroppo no, perché comunque era un posto fighissimo. E infatti io me lo ricordo che ci andavo quando avevo dei miei cugini a Napoli, era strafigo. E abbiamo un amico in comune che anche lui lavorava... Fede, ma... Madonna, sanna. Cioè, Fede, pensa dove è arrivato adesso. Ah, perché esatto, cioè, il motivo paradossale di tutto questo è che Davide... Come ci siamo conosciuti. Esatto, Davide lo conosciamo adesso perché con gli eventi Like e quant'altro ci capite di vederlo, recentemente, anche se questa puntata uscirà fra un bel po', ma recentemente con l'annuncio dell'SL3, Davide era uno dei Certified by Like che l'ha presentata, l'ha provata in anteprima, eccetera. Ma in realtà io e lui ci conosciamo da quando io avevo 16 anni praticamente, nel 2012 ci siamo conosciuti e ritrovarci adesso qui fa strano anche perché... 12 anni, eh? Eh sì. Sì. Ma secondo me sono dotato 12 anni per tutti che sono stati, no, incredibili perché è curioso come io ho fatto questa quasi una... nell'arco della mia carriera una doppia carriera perché quando ci siamo conosciuti a Sant'Amiano D'Asti mi avevano invitato come fotografo per in realtà fare i ritratti di tutti gli artisti invitati al festival, no? E quindi... Io era la prima volta che vedevo l'idea di un fotografo, esatto, lui scattava solo con un ombrello flash, però era la prima volta che io mi interfacciavo con l'idea di fotografo artista, perché il mio capo era sempre stato un artista ma nella vita, non solo. Nelle foto. Mentre per la prima volta arrivava questa figura mistica che prendeva gli artisti, andava via col suo ombrello, scattava. E mi avevano anche messo proprio nel catalogo, nel libricino dell'evento con, come dire, lui o il nostro ospite che fa i ritratti agli ospiti, no? Comunque quei ritratti sono ancora bellissimi se ci penso. Quello delle Smoky Ferrys me lo ricordo ancora adesso, è stupendo. Eh sì, e loro hanno... Magari lo mettiamo se riusciamo a ritrovarlo. Per quel ritratto lì, per esempio, loro l'hanno usato per... Per il tour, no? Sì, sì, sì. L'hanno usato per il tour, l'hanno usato per nella promozione di quel disco durante l'anno. Una bellissima esperienza, tra l'altro, perché la questione era riuscire a fare un ritratto diverso per ogni artista all'interno di San Damiano, cercando di sfruttare al massimo tutte le location più interessanti del paese. Quindi per me era bellissimo, perché all'epoca ero il fotografo dell'ombrello, no? E il mio blog si chiamava Under My Ombrella, che purtroppo era proprio a cavallo con la canzone di Rihanna. Quindi sembra proprio... Una piccola letterina... È un po' un meme, o meme, come dite voi. Però per anni l'ho tenuto, perché era la roba... Io faccio i ritratti con 35 mm, con la macchina in una mano e nell'altra mano uso un flash, uno speedlight, con l'ombrello riflesso. Quindi io andavo in giro così, con questo ombrello e per, ma tipo, non lo so, 6-7 anni di aver fatto questa cosa, sempre lo stesso identico ritratto, più o meno, quelli su sfondo nero. Cosplayer. Il primo progetto che era Social Portraits, che è un progetto che secondo me ancora oggi è molto interessante, magari dovrei anche rimettere alcune cose che facevo nel passato nel mio sito, visto che non c'è niente di quello che era la mia precedente carriera nel mondo del ritratto. Però è una cosa abbastanza comune quella di un certo punto di oscurare tutto completamente, boh, sarà che quel periodo lì per me era, ah, voglio solo fare i miei progetti e voglio esporre nelle gallerie, voglio... E il problema è che, sai, al padrone di casa non gli vai a dire... Guarda, a un certo punto questa roba funzionerà, te lo prometto e quando funzionerà ti pagherò. non funziona, no. Quindi, guarda, mi ricordo questa storia qua, c'era un appartamento che mi piaceva a Torino, no? Era nello stesso palazzo dove vivevo io, ma in un altro piano. prima di me ci viveva e affittavo a questo appartamento un fotografo. Ok. Ok. Quando dopo anni questo appartamento era sfitto e noi vivevamo in un altro piano, io volevo prendere questo appartamento, quindi parlo con questa padrona di casa e vorrei prendere un appartamento, sì, ok, ah, va bene, interessante, sì, insomma, siamo metterci d'accordo e lei che lavoro fa? Eh, io faccio il fotografo. non esiste, voi fotografi, siete una razza, non pagate niente, voi non lavorate, siete dei cialtroni, e io così ho detto, ma scusi, ma perché? Perché il mio inquilino è scappato di casa, mi ha distrutto casa, questo tipo si era fatto una sorta di studio casa e faceva, non lo so, tipo le messe sataniche, anziché fare dei set fotografici, la casa l'era distrutta, ma proprio perché sembrava l'antro della bestia, è andato via, non ha pagato gli affitti per un anno, ha chiuso la porta e è scappato, quindi, in quel caso per riuscire poi a riprendere possesso del locale che tu hai dato in rocazione è un casino, quindi a convincere la signora io ci ho messo mesi, mesi, mesi e mesi, cioè, e poi finalmente ha capito che sì, si ha trovato un coglione nonna, un fotografo, sono tutti quelli, bravo, esatto, quindi, non lo so, questo è un'azzardata. Però ti dirò, fino a qualche anno, un po' di anni fa, la figura del fotografico, io me lo ricordo perché avevo la stessa situazione a Correggio, sia con la mia famiglia che con chiunque conoscevo, io vorrei fare foto, quindi vuoi farla fame, cioè ti dicevano tutti questo, cioè ti guardavano come se, tu devi andare a fare il mendicante. Sicuramente. C'è molta ignoranza al riguardo anche. Ma erano, secondo me, anno dopo anno, la figura del fotografo in generale di queste due arti visive che è foto video, anno dopo anno è stata praticamente stravolta, no? Cioè, se io ho iniziato, come dicevo, nel 2005 a fare queste cosine e dire, eh no, adesso voglio studiare veramente perché, ritornando a quel discorso, considera che poi io ho finito nel 2010, ho preso questo diploma e ho aperto subito il mio studio, no? Certo. E ho lasciato la Fnac nel 2010, una cosa di cui avevamo già parlato. Poi, comunque, da lì è stato, con i su e giù, è sempre stata la mia professione, no? Ed è cambiato tutto, è cambiato veramente tantissimo, cioè il fatto di... Prima era una strada dove sapevi perfettamente cosa fare, come promuoverti, quali erano i settori della fotografia, più o meno ti barcavi la vita tra una cosa e l'altra, c'era l'autoriale, c'era poi il commerciale, tutte queste sotto insiemi, le nicchie, avevi un portfolio, il tuo portfolio poteva essere stampato, no? Facevi una bella scatola col tuo portfolio, tu devi presentare le agenzie, e avevi il tuo sito internet. Ancora adesso è così, no? E poi si apre questo nuovo mondo digitale, di nuova comunicazione, che si muove a una velocità della luce. Cioè, non è a Instagram, Instagram o comunque i social media in generale, oggi sono così, tra una settimana sono cosa? Quindi è proprio difficile, e per me, che magari ho una certa età, è proprio complicato essere il fotografo che lavora... Non ce la fa a starci dietro. In preproduzione, produzione, postproduzione, e in questo processo deve anche ricordarsi che deve dare da mangiare a questo nuovo modo di fare self-marketing, self-promotion, no? Cioè, siamo nati in un'epoca diversa, no? E io sono cresciuto a livello, non solo professionale, ma ho studiato la fotografia in un certo modo, e mi hanno instradato e mi hanno detto, questi sono gli step. E poi adesso è tutto cambiato, no? Eh sì, ma in realtà io penso che questa cosa che stai dicendo si verifichi letteralmente su tutti, anche su giovani banalmente che hanno iniziato già con questa macchina in moto. Più che altro perché è un meccanismo, quello dei social, che sì, è super premiante se lo fai bene, però ti risucchia il tempo da tutto ciò che è importante poi se fai il fotografo. A un certo punto devi decidere, secondo me. Io ad esempio l'ho visto anche nel nostro caso. Io ad esempio, io fino a tre anni fa pubblicavo una foto al giorno. Io ora se ne pubblico due a settimana è un miracolo in terra. Perché dopo un po' non ce la fai più. A stare dietro a quella macchina lì. E lì devi scegliere se fare il fotografo o fare content creator, chiamiamolo come mi pare. Però la domanda è, effettivamente te ti senti che è una mancanza oppure hai trovato un tuo equilibrio? Perché la roba che si dice sempre è devi per forza essere sui social, devi essere presente. Però cazzo tu comunque ora cominci ad avere sia i tuoi anni di esperienza sulle spalle sia un certo tipo di autorialità in quello che fai, un certo tipo di clienti, anche perché non fai più foto come un tempo. Cioè i clienti Lamborghini, Maserati, fai roba grossa. Quindi mi chiedo anche, è davvero così necessario? Magari sì, potresti avere potenzialmente forse più lavoro, ma effettivamente è quello che cerchi. Secondo me è una bellissima fonte, cioè un bellissimo vettore, veicolo. Certo, certo. Il problema è che è difficile stare attorno, la questione è, lo vuoi usare e lo usi a modo tuo e non stai a pensare che ogni settimana c'è un modo diverso per utilizzarlo e a sfruttarlo al massimo. Cosa c'è in trend, tutte queste... Io me ne fotto, noi ce ne freghiamo totalmente. Cioè la mia teoria di social media è sempre stata più o meno questa. E soprattutto social media è l'algoritmo. È così. È come quando entri in un supermercato, in una corsia di prodotto tipo i cereali, no? Quando tu entri nella corsia dei cereali vai dal plain noioso cornflakes, che sia visivamente brutto e anche la scatola è brutta, e poi vai fino ai tipo i fruity loops, no? Che hanno una scatola da paura e c'hanno anche gli unicorni e sono coloratissimi. Quindi se tu sei un bambino, ma anche un adulto, inizia a camminare e dici ah, sì, devo prendere i cereali. Quindi tu entri in questa corsia, e ovviamente è tutto ben studiato, no? Il display, il percorso. Tu arrivi, a un certo punto inizi a guardare, dici ce n'è uno che è qua, uno che è qua e uno che è qua, a un metro e sessanta, no? Normalmente quello a un metro e sessanta è messo lì perché l'algoritmo, no? Certo. Te l'ha messo lì, ok? E quindi c'è questa cosa di eye candy, come si dice in inglese, cioè è vicino ai tuoi occhi, hai colori giusti. Ah, fammi provare questo. E lo prendo. Il social media, molto spesso, è fatto così. Cioè, io che sono il direttore del supermercato, e sono il vetrista di questo supermercato, ok, Instagram, dico Ok, cos'è che dobbiamo vendere oggi? Ah, abbiamo un po' di questa roba che è in scadenza e va. Dobbiamo disfarcene. E quindi Instagram, in un certo modo, inverso, dice Ok, cos'è che è trend? Cioè, cos'è che è virale? Cos'è che possiamo cavalcare? Ah, in questo periodo vanno fortissimo le foto di auto. Ah, bene, ok. Quindi diamo visibilità a questo? Sì. Ok, andiamo. E questa cosa qua è molto complicata. Io lo vedo, per esempio, dal mio di Instagram. Cioè, io non faccio solo le auto, no? Però la mia, chiamiamola fanbase... Ti segue per questo. Molti, no? Sono arrivati per le auto. Oppure anche per il fatto che uso Laika. Molti anche per questo. Però io faccio tante altre cose. E quando ho posto l'altra cosa, il divario è... Cioè, ieri, l'ultimo post che ho fatto era una foto di questa Lamborghini Miura, di un lavoro che ho fatto nel 2020 per Lamborghini, che è il lavoro che ho fatto in Sardegna, in giro per la Sardegna, con quella bellissima Miura Oro. Ho messo questa foto, tipo 1500 like, no? Ed era da tanto. Le altre foto erano ritratti, ho prodotto... Ma cose a me care, cose per me molto belle, no? Tra cui anche la mia prima regia di uno spot, che ho fatto a cavallo tra l'anno scorso e quest'anno. E lì, ma va, tipo, 200 like. Sì, è che secondo me... Capisco molto bene. Beh, ma avete capito questa mia... Sì, sì, perfettamente. Però io, sempre di più, forse anche perché, appunto, dopo un po' cominci ad allinearti, a capire quello che effettivamente vuoi fare o non vuoi fare. Io quello che ho nato sempre è che poi i social media, l'algoritmo è cambiato un milione di volte, anche dopo YouTube, faccio questo da otto anni YouTube, è cambiato diametralmente. Però alla fine chi è rimasto, cioè chi effettivamente ha creato lo zoccolo duro, chi effettivamente continua a campare con sta roba, non sono le persone che hanno seguito il trend costantemente, ma che a un certo punto hanno trovato una loro identità e hanno detto, signori, io faccio questo. Vi va bene? Sì, non vi va bene. Faccio comunque questo. E anni dopo, poi è difficile, sai, parlare sempre di lungo periodo in un mondo dove, appunto, cambi costantemente la voce della luce, ma anni dopo quella gente lì è ancora lì. E ce l'ha fatta, perché ha creduto più in quello che effettivamente gli veniva naturale fare, più che cavalcare costantemente il trend per arrivare a 100.000 like a post. Sì, e poi? Cioè, quando questa roba ti rompe il cazzo... Più che altro se fai una roba del genere, quindi fotografia, video, comunque un qualsiasi tipo di arte visuale, se poi non si percepisce, non passa il fotografo, l'artista, quindi quello che voglio fare io, automaticamente, secondo me, poi dopo non si parla neanche più di quello, si parla di altro. E secondo me, sul lungo periodo, soprattutto in ottica professionale, perché poi qui stiamo parlando di utilizzo social a fini poi professionali, farsi conoscere per poi arrivare a, e non alla viralità fine a se stessa, il seguire il proprio percorso è, secondo me, quello che noi anche consigliamo sempre ai ragazzi, è la cosa più importante, di non basarsi su cosa va, ma su cosa vuoi fare tu. Questo sai perfettamente che è uno dei territori a me più cari, il fatto di non stare a guardare quello che fanno gli altri, pensa a te stesso, cioè che è un... sapete che ho insegnato per tanti anni, è una delle cose che ho sempre detto, sia nei corsi base, ma magari anche nei workshop, è capisci se questo è il tuo momento insieme a questo strumento, perché se non vivi una vita e non costruisci una serie di esperienze che poi puoi trasformare attraverso la tua fotografia, cioè, mi spiego meglio, il fatto che io sia arrivato così tardi, diciamo, allo studio della fotografia, a diventare professionista, diciamo che ho portato le mie esperienze nella fotografia, no? Questa cosa che racconto sempre, no? Il fatto di... Uno degli ultimi workshop che ho fatto, no? Che ho avuto la fortuna di portare a Seattle, a Microsoft, dove ho fatto questo workshop al team del design di Microsoft nel 2023, dicembre? Sì, no, scusami, dicembre 2022. E sono stato lì per fare questo talk e un workshop. su quello che faccio io. Sono stato invitato perché il capo del design era un mio fan e qui torna Instagram. Cioè, io l'ho conosciuto, io l'ho fatto un ritratto. Lui è andato a vedere quello che facevo e con stupore mi ha detto ah, ma tu fai anche queste cose. Ah, ma è pazzesco. Mi ha seguito e siamo rimasti in contatto e l'idea era mi piacerebbe mi piacerebbe che tu facessi quello che fai tu con i nostri prodotti, no? Merda! Però io gli ho detto io non posso fare quello che faccio io con i vostri prodotti perché ho bisogno di conoscervi, ho bisogno di conoscere meglio il vostro prodotto. Perché per comunicare qualcosa attraverso la mia fotografia devo essere dentro il loro processo. Cioè, io non riesco a raccontare attraverso le mie foto qualcosa che non non mi ha trasmesso niente, no? Perché se no attraverso il mio filtro della macchina fotografica non c'è questo flusso di conoscenza che io prendo mangio, lo digerisco, penso, no? E poi dico ah, ok questo è una questo è quello che vorrebbe il cliente attraverso me, no? Questo è quello che il cliente vorrebbe da me. Quindi soddisfa me ma soddisfa anche lui. E quindi la mia richiesta è stata non mandatemi dei prodotti qua che io fotografo. La cosa migliore sarebbe vedere quello che fate. E allora mi fa ok sentiamoci tra un po' un'idea. Questo tra un po' ovviamente sono immaginate i tempi comunque di questo Certo Cioè, grandi persone Se non penso una settimana dopo ti abbia chiamato. No, sei mesi. Sei mesi di ok, ci sentiamo magari dopo con la mia assistente quindi ci risentiamo lui vede un altro lavoro che ho fatto e dice allora secondo me la cosa più bella è perché non vieni qua e fai un talk e magari un workshop su quello che fai cioè Merda spegnati spegnati e io proprio lì sai che mi toccavo la fronte dicevo ah, sì beh, no certo va bene va bene tipo sei proprio sicuro me vuoi me è ovvio e quindi niente alla fine questa cosa succede e quindi io dopo altri mesi poi riesco a organizzare tutto nell'ansia più incredibile devo scrivere uno speech perché devo andare a parlare a un audience che parla ovviamente solo inglese e cap e io devo trasformare il mio modo di di raccontare la mia teoria e la devo trasformare in un talk per gli americani che hanno una formula diversa no quindi chiamo il mio amico John che fa il come si dice quella cosa che fa John che comunque scrive no fa il copywriter e quindi dico John io ho bisogno di una mano perché lo sai che io si so parlare ok ma qua come come dobbiamo strutturare la roba e quindi per farla corta quindi io ho questa mia tesi questa mia insomma teoria che è attraverso il percorso attraverso il conscio e l'inconscio percorriamo la strada che ci porta alla nostra intima creatività ovvero quello che noi abbiamo vissuto tutte le nostre esperienze che ci ricordiamo ma anche tutte quelle che non ci ricordiamo e che inconsciamente sono rimaste nel nostro cervello soprattutto nella giovane età negli anni dell'apprendimento negli anni dove c'è questo imprinting sull'autobus da macroe a nuoro ancora prima perché tutta la creatività arriva prima no questa roba qua ti porta verso questa questo unico modo di vedere il mondo e di tradurlo poi in fotografia e quindi questo è quello che io spiego in questo in questo talk poi non sto qui a raccontarvi ma la questione è faccio vedere le mie foto no e dico vedete perché faccio questo vedete ho fatto quest'altro e poi dico lo sapete perché e faccio vedere e faccio vedere la prova di questa questa teoria qua no poi mi auguro che prima prima o poi di riuscire a farlo anche in Italia sarebbe molto figo e quindi niente ho fatto questa cosa qua che è stata mi è piaciuta un sacco ma la cosa più curiosa è per me distruttiva sono stato malissimo il giorno dopo ho avuto proprio una gastrite fortissima quando sono arrivato lì mi presentano era una sala fai dove c'erano boh fai 30-40 persone e in più online ce ne sono tipo 60 quindi io arrivo lui mi introduce e dice siamo contenti questo è tipo il terzo o il quarto episodio di un format che loro hanno lì per i dipendenti fa il primo anno abbiamo avuto Stefan Sagmeister e io ok famosissimo grafico bene poi abbiamo avuto è venuto a farci visita a fare il Williams e io lì faccio dove mi metto e poi fa un altro nome che forse era Trevor Noah che è quest'altro attore comico anche lui forse fa YouTube e siamo contenti di avere Davide De Marti se io no no e questa roba per me è stata talmente assurda che io non l'ho scritto da nessuna parte tu hai mai letto su Instagram non l'ho mai letto infatti questo è un errore però questo doveva essere un flex cioè dovevi farti una foto con la bandiera di Microsoft questo è il disagio della sindrome dell'imposto però ragazzi ne abbiamo parlato in una puntata un tempo fa di quanto la fotografia ci permette di entrare in posti senza senso che cazzo di posto ma io non ho fatto una quando ero lì cioè non mi son fatto una foto io non ho una foto davanti a un logo di Microsoft per dire guarda che ci sono andato davvero a un certo punto uno ti potrebbe dire tu sei pazzo stai inventando tutto allora dopo mesi e mesi ho preso coraggio e ho fatto tipo un post su Instagram ma dove c'è tipo c'è una mia foto in questa camera necoica dove loro testano tutti i prodotti una roba allucinante tipo la più insonorizzata al mondo che ha vinto anche il Guinness dei primati per questa cosa e poi una foto mentre faccio il workshop e una foto mentre faccio il talk vabbè sì però capisci fossi stato come le persone che ho incontrato a Wetzlar per il lancio dell'SL3 ragazzi sono qui a Wetzlar I'm so excited to be here you know come si passa da fare le foto ai cosplayer con l'ombrello così a fare una campagna per Lamborghini e poi quel tipo di campagna non è che dici la campagna social di Lamborghini tu hai fatto delle foto per Lamborghini con anche delle macchine che non penso che si vedano tutti i giorni ovviamente lo switch è composto come abbiamo giustamente detto da un miliardo di elementi passato presente conoscenze eccetera però quando è successo io mi ricordo quando sono successi che alcuni clienti sono arrivati ho detto stiamo lavorando con non più una pesca un'albicocca che cazzo qual è stato il allora considera che comunque prima di arrivare a fare questo io facevo già le campagne con ritratto cioè io ho avuto la prima mia campagna billboard cioè con l'affissione in tre stazioni fu una campagna B per banca ok e quello l'anno correva l'anno 2015 16 fai forse e quindi ero già tra virgolette possiamo dire un fotografo che anche se all'epoca era una che fa le campagne ok ma tu avevi un agente o cercavi tu per i fatti tuoi ma non ho mai avuto un agente e ancora oggi è così non mi ricordo all'epoca tramite che giri insomma comunque e oltre a quello facevo tantissimo ritratto per altre aziende mi viene a pensare Vans altre banche comunque avevo già un botto di clienti insomma abbastanza interessanti non è che facessi chissà che cosa per loro però mi ricordo che era il mio primo sito all'epoca si usava questa cosa di fare la pagina con tutti i loghi dei clienti con cui avevi lavorato e mi ricordo questa cosa qua non me lo scontornavo lo mettevo lì tutto contento ma ho fatto anche questo magari delle cose però era tutto ritratto cioè se ti ricordi all'epoca era prodotto e ritratto un po' a modo mio Wuric avevo fatto sta robina per Wuric che era molto interessante una collaborazione tra Wuric e Deus mi ricordo un po' di cose proprio molto interessanti e nel mio nel blog famoso under my umbrella c'erano un po' di foto di auto e da lì poi qualcuno ha iniziato a notare le prime collaborazioni sono arrivate con Karen Vintage e poi da lì tac 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 una cosa si è aggiunta all'altra e all'inizio per me era strano perché io sono sempre stato uno di quelli che venivo contattato per fare una cosa che non facevo era no chiama lui top cioè per me non è mai stato un problema no guarda io still life così puro no non lo faccio chiama questo mio collega ma in realtà comunque lo facciamo anche noi è molto normale cioè e poi ho detto ma vabbè quindi all'inizio era no guarda non lo faccio le auto non le faccio ma veramente mi sembra che ero bello erano foto che avevi scattato per i fatti tuoi sì certo le classiche foto che ancora faccio oggi che sono un po' un diario visivo sono più delle foto di contesto tra un lavoro e l'altro foto più di viaggio un foto diario queste cose erano più però erano diverse dalla media di quello che era l'immaginario il mondo dell'automobile soprattutto sui social media all'epoca beh anche ora secondo me le tue foto di auto sono molto diverse anche tuttora da quello che si fa normalmente diciamo che ci sono state un sacco di persone che ancora oggi c'è un sacco di gente che mi scrive è molto strano io ripeto sono divento un gino totale quando mi fanno i complimenti non so più cosa dire però tanti mi scrivono e mi dicono grazie a te cioè sei la mia più grande fonte di ispirazione cioè sentirsi dire comunque queste cose sono sono bellissime cioè è una cosa veramente meravigliosa e poi però la domanda è e cosa ho fatto io che che ho cambiato secondo me non devi porti quella domanda no no perché non hai la risposta no no sicuramente però cos'era la domanda come sei passato dagli ombrelli alle auto e poi da lì l'ombrello è sempre rimasto in realtà è solo più grosso adesso e da lì niente è sempre stato un un come si dice un mattoncino in più un mattoncino in più è avere sempre un input creativo in più no quindi passare da la luce naturale solo luce naturale senza scegliere la location e dire siamo qua fai meglio con quello che hai e poi è cosa ne dici se andiamo in questa location piuttosto che l'altra e quindi già una scelta in più per te e poi è c'è questa location questa macchina come la faresti fino a cosa ci proponi ci poter scegliere tutto esatto cioè quindi dire c'è questa questa macchina c'è questa vettura vorremmo comunicare questo fai tu sì e quindi io lì entro proprio nel mio nel mio mondo e dico ok secondo me potremmo fare questo con questa illuminazione con questa tecnica perché se usiamo questa tecnica enfatizziamo questo cioè alla base di ogni più o meno di ogni lavoro c'è un'idea creativa molto spesso legata al mondo della la musica tipo le copertine dei dischi o la fantascienza no molto spesso film di fantascienza o i videogiochi questi le tue foto hanno un po' di Blade Runner tipo il lavoro quello di Lambo che ho fatto mettendo il flash sul drone come si mette un flash sul drone questa cosa lo sentite anche alla presentazione guarda che cazzo vuol dire un flash sul drone praticamente con Simone Simo che è un pilota drone tra l'altro un pilota bravissimo fps fps fpv che combo strano un drone un pilota rbc no e simone castagna shout out e comunque con Simo abbiamo l'idea era gli ho detto guarda io voglio fare questa roba qua come possiamo farla allora era ok costruiamo con la stampante 3D un housing cioè un una struttura che possa accogliere il flash quindi il primo prototipo era su un cine lifter che in realtà era solo per il cinema e doveva avere una certa libertà no perché quando tu quindi non c'erano tipo stabilizzazioni e quindi inizia era proprio complicatissimo però il primo lavoro che abbiamo fatto era proprio così freestyle e il drone atterrava sulla parabola del flash bello profoto contenti quindi la il primo che abbiamo fatto è la roba più bella che abbiamo fatto ed era proprio oh proviamoci quindi era ok scegliere la location al momento cioè un momento preciso quindi era andiamo eravamo a Valencia quindi abbiamo scelto la location per questa roba che era un magazzino di container ma raga la città di container quella roba lì sì sì quel disteso infinite scegliere l'orario preciso quindi l'alba perché il sole tramontava in mezzo alle due linee giganti di container e poi avere la macchina che praticamente faceva avanti indietro lì e poi in giro in questo in questi piazzali e il drone praticamente doveva alzarsi a boh non so fai 6 10 metri sopra la macchina e fare il lampo quando la macchina passava quindi è uno slow shutter quindi uno scatto di quasi un secondo dove io in realtà faccio un pan quindi seguo la macchina ma il flash ti frizza la vettura per quel momento quindi è tutto lo sfondo mosso la macchina esatto è tutto mosso poi dipende da come la gestisci tu cioè quanto vuoi che sia mosso no? quindi scegli tu prima o seconda tendina a seconda di vuoi tipo il fuoco che viene fuori dai fari o vuoi la scia quindi ti gestisci tu questa cosa qua e poi la mia idea era quella di della roba del turbo boost dei videogiochi che quando schiacci il turbo vedi la macchina che tu vai sono le scie ed è quella roba lì cioè la mia idea era faccio questo e poi lo faccio vedere a quelli di Forza Horizon di Xbox però a Seattle glielo hai fatto vedere esatto e quando era Seattle glielo ho pure fatto vedere merda quindi Forza Horizon 8 avrà la tua foto no ma figurati no allora la roba assurda era sai che su Forza Horizon non puoi fare le foto con il videogioco certo e quindi la mia storia era ma sai sarebbe bello figurati io da nessuno ma sarebbe bello sai magari avere nel videogioco una funzione tipo defuntis di fotografia dove puoi fare delle robe matte come quelle che faccio io monta il tuo drone col flash del simulatore puoi scegliere il setup per fare le foto e comunque e questa roba qua la prima volta è andata da paura e l'abbiamo ripetuta diverse volte è andato a un marchio di fabbrica ma è una una delle tecniche che uso però è molto dura cioè capisci che c'è il flash diretto con solo una parabola quindi devi stare molto attento alla forma e design della vettura la sua texture il suo colore cioè funziona su certe e non funziona su altre e su altre eh raga poi c'è anche questo che comunque fotografare auto non è proprio una passeggiata eh sì è uno degli oggetti più incasinati il ritratto con l'ombrello era un po' più semplice un po' più tranquillo dice eh sì e qui la parte tecnica invece c'è ok adesso tu vabbè ma a parte la questione certified by Leica che poi forse è quasi un flusso che si è creato in maniera non dico automatica ma a un certo punto è diventato però lo scegliere la macchina la lente il tipo di strumenti che utilizzi quanto è diventato importante poi per esprimere effettivamente la tua art o comunque il tuo lavoro in generale ma sicuramente la mia scelta è sempre stata su Leica fondamentalmente per la qualità e soprattutto del dei file ma per quanto io ho qualità nelle ombre e nelle alte luci perché io lavoro quasi sempre a diaframma molto aperto e incontro luce quindi diciamo che queste non aiutano cioè mettere in difficoltà l'ottica Leica era la scelta ovviamente migliore quando prima di avere Leica avevo le ottiche Leica R su Canon non le ho avute e e quando non c'avevo le noleggiavo e e poi niente quando sono passato a SL che era l'unica via per me perché non sarei mai passato a M cioè certo no 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 era impossibile e e quindi Leica mi ha aiutato soprattutto nel primo periodo quando la creatività era la creatività solo luce naturale no e quindi di avere sempre quel plus in qualsiasi situazione cioè perché tu vai a fare magari lo shooting di automotive ti dicono ah sì andiamo in questo posto a tale ora e non c'è un secondo giorno non c'è un orario diverso no e quella è l'ora se piove foto se c'è nuvolo è foto troppo sole foto la macchina a mezzogiorno foto bello però con Leica anche se fai la foto a mezzogiorno e riesci a gestirtela bene la porti a casa la porti a casa cioè in un modo o nell'altro la porti a casa quindi è un po' una questione di il mio approccio anche estremo alla composizione e e ovviamente poi la scelta la mirrorless raga io all'inizio non ne volevo mirrorless ovviamente no figure uno scatto reflex no mirrorless no sai tutte queste cose qua poi inizio a usare la reflex e dico ah ok la mirrorless quindi cioè per me è stato un boost nella precisione della composizione a colore che mi ha aiutato tantissimo mi ha aiutato tantissimo come ho raccontato nella presentazione che il mio portfolio ora tipo nel mio sito non ci sono altre foto se non foto SL perché è cambiato talmente tanto il mio modo di comporre che è di costruire con il colore che non potrei farne più a meno cioè sicuramente e poi questo però vabbè per la macchina fotografica però sono queste piccole mie pignolerie tutto il resto è un po' a seconda della tua idea a seconda della tua creatività il mio modo di fare è molto cinematografico cioè quindi ogni ogni tipo di progetto ha il suo no? quindi ecco quello che ti ho raccontato è la creatività questa il flash sul drone perché? perché volevo fare quella cosa lì volevo ottenere quell'effetto lì la copertina per esempio del museo dell'automobile a Torino volevo ottenere quella cosa lì e l'ho fatta usando delle tecniche diverse oppure fai pensare altre cose complicate sì oppure ecco usare il multescatto in studio per ottenere altre cose come la copertina che ho fatto che non l'ho mai pubblicato ovviamente dell'anno scorso ho fatto la copertina dell'hamburghini magazine porca troia l'anno scorso ed era l'idea era quella gli ho picciato questa idea di rifare la copertina di Akira la copertina quella dove c'è lui che va verso la sua moto matta ed era quella ma con la nuova Lambo con la Revuelto e fortunatamente mi hanno detto ah sì figo gli ho detto come mai qual era la mia idea che cosa rappresentava quel cartone animato in quegli anni che quel momento lì avrebbe cambiato completamente la storia dell'animazione c'è anche del cinema forse gli ho raccontato tutte queste cose qua perché era legato il loro slogan era from now on cioè da adesso in poi noi abbiamo l'ibrido abbiamo la macchina abbiamo la macchina termica elettrica e quindi era come questo film di animazione ha cambiato le regole la mia è stata questa associazione qua e quindi come vedi su ogni progetto io mi faccio tutto sto spiegone e poi lo presento e a ogni progetto c'è la sua controparte tecnica il che vuol dire in questo caso faremo un multiscatto dove io creo una strada di luce nella strada di luce lui cammina però voglio la macchina l'automobile che sembra un cartone animato come faccio la macchina a cartone animato la illumino così faccio un multiscatto usando il polarizzatore non voglio questi riflessi e poi la metti assieme magari ve la faccio vedere e il risultato è stato molto figo riguardandola adesso la trovo sottoesposta quindi non sono contento e c'è qualche progetto che ti hanno completamente bocciato nel tuo proprio no no mai questo piccolo flexo questo è customer satisfaction 100% no veramente questa cosa può capitare che magari auto la post produzione è un momento molto delicato nel senso che la post produzione ti chiedono veramente tante cose tante cose piccole cose complicate devi veramente sapere come gestire al massimo la vettura devi conoscere il design devi parlare con i designer devi sapere il prima possibile come gestire il colore della vettura questo è molto molto complicato i text urbari immagino il colore i colori delle automobili soprattutto le automobili di lusso sono molto particolari in generale comunque ci sono un sacco di auto che negli ultimi anni hanno avuto queste doppie vernici verniciature particolari riflessi strani riflessi strani quindi riuscire ad avere quello è complicato mi ricordo quando abbiamo fatto campagna di grecale la campagna di lancio in studio avevamo questo giallo che aveva questa cangianza di riflesso che andava sul ciano tipo ed era stato complicatissimo far venire fuori questa cosa qua oppure il nero il nero proprio opaco deve venire fuori come un nero opaco non un grigio medio è tipo un altro trick che uso è usare la cross polarization che è praticamente la doppia polarizzazione quindi tu polarizzi sia la luce che la lente è una roba un po' matta cioè è una cosa che non è così efficace normalmente ma se tu devi raccontare proprio un colore puro se usi questa tecnica qua non esistono riflessi e quindi è strano proprio atipico però funziona per raccontare un colore chi lo usa? no non lo dico perché sennò poi mi dicono c'è spoilerato non posso c'è c'è una categoria di artisti che per riprendere il loro lavoro usano questa tecnica per non avere riflessi nelle loro foto i tatuatori? aia sgamato effettivamente ci si poteva arrivare facilmente poi è un passato io mi ricordo quando tu fotografavi i tatuatori alle feste alle estime di tatuaggio a Torino no li fotografavo per Vans ah giusto avevi fatto il progetto quello delle scarpe bravissimo si ho studiato si mi ho preparatissimo ecco cioè per me difficile trovarlo da qualche parte secondo me a meno che forse c'è ancora su Instagram o su Instagram Davide io cioè secondo me ci sarebbe un miliardo di cose da dire però secondo me sarebbe bello fare una 2.0 ah ma per me per un po' di te no no lo so quando volete perché come vedi ogni argomento ogni cosa che abbiamo detto lo so da raccontare tipo la Sardegna oppure raccontare queste cose qui è super complesso c'è un mondo oggi siamo passati dalla Sardegna a Seattle anzi da ma com'è però è bello sapere che si può fare magari sì forse con altri faccio un'ultima domanda tu la starva dell'intelligenza artificiale quando la stai vivendo la volevo chiedere anch'io prima poi stavi andando in chiusura io non mi ha mai turbato e ti aiuta cioè la uso in fase di post beh la uso da quando esiste come si chiama firefly su photoshop e generate i fill eccetera sì perché molto spesso quando dobbiamo lavorare non sull'auto ma magari cosa ne so ti faccio l'esempio l'asfalto ricostruire l'asfalto questa cosa qua abbiamo fatto una prova mi ricordo appena è uscito dovevo ricostruire una parte di strada io sono molto pignolo quando comunque lavoro in post produzione cioè a costo di metterci veramente ore e avevo ricostruito una parte di asfalto perché non perché nella mia immagine penso che sia necessario ma perché il cliente ti chiede no puliamo questa parte e quindi boom fai che ci avrò messo un'ora cioè sia io che poi Thomas il post produttore che molto spesso collabora con me e poi ci siamo sentiti e mi fa oh ma hai provato firefly e dopo ancora uno mi fa guarda non ti dico niente provalo e quindi vado sulla stessa identica fotografia cancello quei livelli seleziono e ho scritto tipo crea asfalto sostituisce asfalto due minuti lavoro quasi meglio di quello che avevo fatto io e gli ho detto ah beh good cioè mi fa molto piacere per quanto e lo sfrutto così come un tool come un ma lo uso solo per questo poi quella roba lì di come si chiama mi giorni e quell'altro eh boh cioè non mi hanno mai cioè non mi hanno mai fatto paura ecco proprio perché arrivando dal discorso che vi ho fatto prima del fatto del di come noi esseri umani diventiamo queste macchine creative attraverso il nostro vissuto attraverso il bagaglio attraverso questa cosa unica che siamo noi boh non mi fa paura ma noi la pensiamo uguale noi diciamo sempre che se uno ha un valore aggiunto personale che aggiunge a quello che fa e non è semplicemente una stampante di immagini in serie non deve anzi hai degli strumenti che ti agevolano in maniera esponenziale il lavoro poi capisco la grandissima paura verso non la nostra categoria ma quello che potrebbe generare la fotografia completamente generata ma quello è un altro discorso problema nostro io invece volevo solo dirvi sta roba qua vai prima di andare via vi volevo chiedere visto che voi siete comunque grandi fan della fotografia secondo me potrebbe essere interessante anche magari se ci rivediamo noi parlare di fotografia stampata cioè di come no di far vedere di quanto è bello stampare il proprio lavoro sai è una roba io ma non ne parliamo spesso perché purtroppo siamo nati veramente in un periodo e sia il nostro lavoro poi essendo tanto digitale è molto complesso trasformarlo poi vederlo fisicamente è uno sforzo enorme che dobbiamo fare noi per vedere le nostre foto stampate perché ne abbiamo di là ad esempio in cucina abbiamo un po' di nostre foto stampate per varie robe cazzo e quando le guardi ci sono foto a cui teniamo in qualche modo e poi non ci viene mai quella roba del dire stampiamo questo è bella la stampo è un po' la storia una volta al mese prendiamo le cinque foto che abbiamo fatto che ci sono piaciute di più e le stampiamo e le appendiamo in studio è un po' quella storia del calzolaio che ha le scarpe bucate però è una grandissima soddisfazione è lo strumento il suo iter finale la fotografia e la stampa perché ricordiamoci perché ricordiamoci che la fotografia rimane comunque un'arte visiva ma è una forma d'arte ed è per questo bisogno di un supporto e non dimentichiamoci anche che siamo protetti dal diritto d'autore quindi siamo come fotografi degli autori e non bisogna dimenticarlo soprattutto nell'epoca del digitale cioè dobbiamo essere rispettosi verso questo verso questo insomma fattore lo so bisogna bisogna rimettersi lì e farlo è un bel casino è proprio uno scoglio che io percepisco veramente come ma secondo me tanti ragazzi che io ad esempio io come fotografo ho iniziato che c'era già il digitale quindi io tutta la parte ad esempio banalmente di foto a pellicola quindi che ti obbliga io l'ho proprio saltata a pie pari e tipo è proprio una cosa che nella mia concezione cioè per me una foto si guarda su uno schermo paradossalmente per me quella è la normalità cioè questo so cosa pensate della pellicola ma sicuramente per chi vuole avere l'esperienza 100% sulla fotografia il consiglio è sempre quello anche solo di fare una giornata di workshop in camera oscura però secondo me è quella roba lì la roba poi vabbè è un meme la camera oscura secondo me non è tanto la pellicola nel senso scattare a pellicola perché io lo trovo super interessante scattare a pellicola ma per me se prendi un M11 l'esperienza è paradossalmente quasi simile certo per me la parte interessante della fotografia è il motivo per cui mi fa ridere quelli che scattano a pellicola e poi vanno nel baracchino a farsi post produrre le foto e che non stanno lì cioè manca un pezzo non la toccano loro la loro foto non le danno vita a loro no allora la cosa migliore quello che a me dispiace molto spesso chi scatta a pellicola poi porta i negativi al micro lab e li distrugge praticamente perché un negativo è difficile sentire qualcuno che dice ah ho provato questo negativo poi soprattutto il bianco e nero non l'ha sviluppato lui e poi ne fa una recensione dopo che il negativo è stato sviluppato da un micro lab cioè che praticamente è come mettere i negativi dentro uno shaker e farci un cocktail quindi ti viene fuori è una cosa super contrastata ed è molto difficile dare un giudizio giusto se invece te lo sviluppi tu però è quella parte dice come se tu scattassi le foto e poi prendi le foto mandi raw a qualcuno e fai ciao cioè manca un pezzo proprio di lavoro tuo di quello che sei tu ma ricordati che manca anche il pre cioè questa roba te l'ho sempre detta cioè tu scegli la pellicola perché sai come vuoi esporre perché sai come poi stamperai cioè e questo deve essere anche così nel digitale cioè sì sì ma infatti ad esempio lui ad esempio un po' meno di me però ad esempio io con le foto io sono un cagacazzo con le fotocamere fotonico perché se io non ho quel tipo di immagine quando scatto nel mio modo e quindi che quando poi vado in posta a fare determinate cose non esce come dico io io mi impazzisco alla fine è quello che dici tu è come la roba dei come si chiamano i preset no il preset è molto complicato perché il preset funziona in un modo in luce e funziona un altro in ombra quindi tu devi sapere come gestirti in ripresa se hai creato i tuoi preset esatto e quindi è una cosa importante che ha a che fare comunque con la pellicola perché però ripeto chi può vada a farsi anche se non una giornata di camera oscura per vedere che cos'è è stupendo io l'ho fatto a superiori ed è stupendo cioè per me la parte più bella dell'analogico rimane quella cioè per me lo scatto in sé non li trovo un valore aggiunto ma la camera oscura è veramente un'emozione unica unica che non provi con nient'altro sulla faccia della terra quello è cazzo Davide ci sarebbe da riaprire un'altra puntata ci rivediamo quando vuoi sono certo che anche i ragazzi abbiano voglia di sentirti ancora e grazie mille per essere passato grazie a voi complimenti tutti ovviamente le robe di Davide in descrizione tutto quello che fa quello che pubblica è il poco che pubblica purtroppo grazie durante la prima faccio un po' di più promesso esatto fai un po' di più pubblica della roba ok ok promesso noi stampiamo e tu pubblichi di più ok secondo me è un buon baratto va bene da paura ok facciamo così Davide grazie ancora di tutto grazie a voi grazie a voi buona giornata ragazzi ci vediamo alla prossima puntata ciao 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 ciao